Dove sono le birre? Le birre? No, ma non voglio perdere un bifo Dove sono le birre? Ti ha guardato in camera adesso Eeeh, l'ho fatto più di voi Se prima non dovevi andare in camera con gli uomini E' top, rifacendo tutto Nooo Meno faccia da culo Basta Posso passare? Quando hai detto meno faccia da culo Nooo E' un video minchione Ah un video Ahahahah Vai danciamo? Ma cosa fanno? Non ho Allora perché bevi sabato sera? Perché scattato Perché sabato sera? Scusate, scusate, io non sembro a 90, cioè... E' quello che la gente ci aspetta. Ecco così. Bellissimo. Cosa? C'è un problema con Raps. La perdita. Meno tre, due, uno, panini. Perché si deve essere qui? No, Dio. Meno tre. Due, uno, via! Meno, siete partite, ognuna dei ragazzi. Top. Top. Cos'è top? Sì, sì. Tad, 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 tad. Grazie per la visione!